Un programma collaborativo di studio delle zone colpite dal terremoto del 2016 lega l'Università di Camerino alla Toyo University di Chioto. La scorsa settimana un team composto da esperti di gestione dei disastri ha infatti effettuato un monitoraggio a Camerino, Pieve Torina, Monte Cavallo, Castel Sant'Angelo sul Nera e Visso. I professori Matsumatro e Kashi Iwazaki, accompagnati dalla professoressa Lucia Ruggeri e dalla dottor Roberto Garetto di Unicam, hanno incontrato i sindaci di questi comuni per verificare lo stato della ricostruzione. Durante un partecipato seminario organizzato dalla School of Advanced Studies di Unicam, i professori giapponesi, affiancati da due funzionali dell'organizzazione non governativa Platform Japan, hanno delineato il quadro regolamentare ed operativo adottato dal Giappone in caso di disastri. La delegazione, nel corso di un incontro con il rettore Claudio Pettinari e il prorettore Graziano Leoni, ha anticipato che nel prossimo settembre sarà organizzato un programma di attività che coinvolgerà 40 studenti provenienti dalla Facoltà di Studi Globali e Regionali della Toyo University. Grazie a tutti.